È stata una nuova notte di sbarchi a Lampedusa, 372 migranti, 8 imbarcazioni soccorse, due delle quali della ONG Astral. Le motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno salvato gruppi di persone provenienti da Burkina Faso, Guinea, Nigeria, Costa d'Avorio, Mali e Camerun. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, che attualmente ospita 769 persone a fronte di una disponibilità di 400 posti. E questa sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento, nuovi trasferimenti verso Bari.